Dalla giornata di ieri un'intensa perturbazione sta colpendo la nostra provincia. In pianura pioggia e vento, in montagna invece, è arrivata la prima neve della stagione. I rilievi piacentini che superano i mille metri di altitudine si sono infatti tinti di bianco. Durante la notte diversi centimetri di neve sono caduti sul Penice, a Parato Cipolla, sul Monte Bue, a Grondone e in altre zone del nostro Appennino. L'anno scorso la prima neve nel piacentino arrivò il 25 novembre e interessò anche le fasce collinari. Per tutta la giornata di oggi la protezione civile dell'Emilia Romagna ha diramato l'allerta meteo per criticità idrogeologiche che potrebbero manifestarsi sia sul territorio collinare che su quello montano. Secondo le previsioni la perturbazione dovrebbe calare col passare delle ore e terminare nel tardo pomeriggio. Domani infatti tornerà il sole anche se le temperature resteranno al di sotto dei 9 gradi.